La sai la novità? Arrediamo e vestiamo la tua casa a Scordia, a 20 chilometri da Catania. Vasto assortimento di tendaggi e mobili di vario genere, dai contemporanei ai classici e moderni. Scegli il tuo stile e acquisti con sicurezza nel primo negozio online di mobili, tende e tessuti. Vieni nei nostri showroom a Scordia, in piazza Piersanti Mattarella 20, in via Cristoforo Colombo 5 e in via Statuto 194. Oppure, se sei abile con il web, basta un clic e hai il tuo preventivo. www.rosamobili.it e www.sltessuti.it E se hai moneta Sicanx, risparmi i tuoi euro.